Una vera e propria arretata si è consumata nel pomeriggio di martedì a Campolongo di Eboli, rivenuti attrezzi rubati, gasolio, benzina e superalcolici. A svolgere le operazioni con il delegato alla sicurezza del comune di Eboli Giuseppe Labrocca e i vigili urbani del comandante Mario Dura con gli agenti Aragone e Iula, insieme ai carabinieri di Santa Cecilia con il comandante di stazione, il logotenente Grimaldi, insieme al logotenente Maucione, agli ordini del capitano Luca Geminale. I militari hanno posto sotto sequestro 26 tanniche da 25 litri di gasolio e benzina, tre pompe elettriche, 52 bottiglie di superalcolici ed ancora tre tanniche di olio motore, un generatore e 36 tanniche vuote, probabilmente pronte per essere riempite con proventi di razzie nelle aziende della Piana del Sele. Gli inquirenti hanno denunciato due persone, di cui uno risulta clandestino.